28 febbraio 1922. Sotto la spinta del movimento nazionalista, la Gran Bretagna concede formalmente l'indipendenza all'Egitto. Nell'accordo gli inglesi conservano tuttavia un ampio controllo sul paese. La Gran Bretagna si riserva, con i quattro punti, il diritto di intervenire negli affari esteri e nelle questioni relative alla difesa, di mantenere truppe sul territorio egiziano e il condominio sul Sudan. Lo strategico canale di Suez continua ad essere di proprietà straniera sottoposta al controllo militare inglese.